Ciao a tutti, allora scusate l'aspetto un po' stanco, però oggi sono stata tutto il giorno fuori, sono andata all'Hobby Show alla Fiera di Roma ed è stata una giornata veramente bellissima, mi sono veramente molto divertita, grazie a tutte le persone che sono venute, siete un gruppo di pazze scatenate, siete veramente fantastiche, mi avete fatto morire da ridere, sono stata davvero molto molto bene, mi dispiace per le persone che non sono potute venire e che comunque magari avrebbero voluto esserci, volevo condividere con voi quello che ho preso, poche cosine che mi servivano, quindi io adesso cambio inquadratura e vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Siamo da due panetti di Keto Polyclay che ho trovato allo stand di Hobby Color che è un negozio qui a Roma e finalmente saprò dove trovarlo senza ordinarlo da internet. Poi ad uno stand che non mi ricordo sinceramente qual è, ho preso questi due panetti di Premo, ho scelto un color cioccolato, un color pan di Spagna e un beige molto molto chiaro. Poi ho preso delle basi per anelli, queste le ho preso da Dive Bisou e ho ripreso questa tipologia di basi perché mi piacevano e da Macca dove le prendevo di solito non le ho più trovate e sono regolabili e hanno questa carinissima filigrana e niente sono molto carini e ne ho preso una vicina, anche in virtù di un futuro mercatino che farò. Poi ho preso queste basi per ciondoli, non sono il massimo, le cercavo un po' più spesse, però ho trovato queste e comunque le ho volute prendere. Sono carine per mettere i cabusson fatti in pasta e poi ho preso delle carte particolari per scrapbooking con tutti i brillantini, sono bellissime e quindi siccome era la prima volta che le vedevo, non le ho viste in nessun altro negozio di Roma, ho deciso di prenderle e sono molto molto carine per fare magari dei piccoli ritagli da applicare a dei biglietti, ovviamente è utile di fare tutto un biglietto così, è un po' diciamo troppo iridescente. Ok, queste sono le poche cose essenziali che ho preso, ho preso le cose che mi servivano, non ho voluto spendere un'enormità e adesso vi lascio ad alcune immagini della giornata di oggi e niente, vi ringrazio ancora tutte quante perché è stata veramente una bella giornata e mi sono molto molto divertita e ci sentiamo al prossimo video, ciao! Ciao Ari, ciao Saletta malata, siamo arrivati, aiuto fa freddo, il freddo cani si oggi, si scocchiglia e poi ci prendiamo la lavetta? Penso che sì perché se no quando arriviamo là già siamo sassi, non è più bello! Che avete preso di bello? Tipo 14 miliardi di colori, la signora sta cominciando a vedere questa notte si sognerà ripetutamente il numero 22, oggi abbiamo preso non so quanti di colori per il nostro Granada. Perché inquadri là che io sto qui? No perché è un bello profilo laterale. Si, ecco, sono di là che una sembra più magra. Grazie! Molto Lily Cooper! Filippo, devi mettere così! Gettile, mamma lò? Mamma lò? Amore? Fatti vedere! Ammazzami! Sì, rispetto sulle stesse perle che hanno preso loro. Siamo proprio insimbiosi. Grazie ragazza per il suggerimento! C'ho il gobu parlando! Ecco Renato! Faccio un'inquadratura generale. Perché mi hanno sempre per i sametti mangiato. Ecco, c'è fila! Tutto il corso della fiera se vanno a mangiare! Grazie a tutti!